La demolizione completa del viadotto, rampa di svincolo di torno in parte e la sua sostituzione con un rilevato di terra rinverdita e la deviazione per alcune centinaia di metri del letto del fiumeraio che attraversa l'autostrada vicino all'imbocco della Galleria di San Rocco. È il progetto di adeguamento proposto un anno fa da Strada dei Parchi, ente gestore dell'autostrada 24 Roma L'Aquila Teramo, necessario per ammodernare il viadotto di rampa, inadeguato non soltanto dal punto di vista della sicurezza ma anche per quanto riguarda l'efficienza infrastrutturale. I mezzi pesanti, ad esempio, lo attraversano con difficoltà. Un'opera che stravolge un pezzo di montagna con un impatto ambientale evidente, in sostanza nascerebbe una costa di montagna oggi inesistente e che insospettisce i tornimpartesi. La comunità di tornimparte, infatti, dice no a un'opera enorme, non condivisa con la comunità, della quale non si conosce la reale tenuta e chiede a Strada dei Parchi di condividere con l'amministrazione il progetto definitivo, in un tavolo intorno al quale possa sedere anche una sua rappresentanza. La vallata del Raio è d'altra parte già stata distrutta 60 anni fa con la realizzazione dell'autostrada che ha stravolto la campagna interrompendo il corso del fiume che fino ad allora irrolava i campi e arricchiva colture e pascoli. La sicurezza è un aspetto fondamentale dell'autostrada e in generale delle infrastrutture, quindi noi non ci opponiamo all'adeguamento sismico e strutturale della rampa. Vogliamo però capire cosa sta facendo Strada dei Parchi, a quale punto dell'iter del progetto siamo e vogliamo condividere le scelte con la popolazione e non ritrovarcele sopra come è successo negli anni 70.